Graziano Apruzzese, titolare di questo nuovo punto vendita d'Eco, ma in realtà qui dal 1996, quali le novità? Innanzitutto possiamo offrire ai clienti un assortimento molto più vasto, in quanto abbiamo 8.000 referenze presenti nel nostro punto vendita, che sviluppa un'area vendita di 500 metri quadri. Abbiamo circa 15 dipendenti, di cui una decina sono i nostri collaboratori storici che conoscono il territorio e in più abbiamo inserito altre 5 nuove unità grazie a questo nuovo progetto di DECO. Noi siamo sempre alla ricerca di prodotti artigianali del territorio, che normalmente non sono presenti nei supermercati classici. In più adesso abbiamo una serie di prodotti a marchio DECO, che sicuramente offrono delle opportunità vantaggiose ai nostri clienti. Grazie al gruppo DECO abbiamo ampliato la nostra offerta di prodotti. Abbiamo dato più attenzione a prodotti di nicchia, tra cui mi viene in mente il bio, senza glutine e niger free. I punti di forza di questo nuovo punto vendita sono il servizio domicilio a casa, quindi della spesa, e anche il ritiro presso il punto vendita. In più presteremo attenzione ai nostri anziani con uno sconto del 10% sulla spesa dedicato ogni giovedì. Inauguriamo oggi un nuovo punto vendita DECO qui ad Andria, è inevitabile parlare di strategie prospettive e future per lo stesso marchio. Sì, questo è il secondo punto vendita nella BAT, il primo è stato su Barletta, circa 1000 metri quadri, questo è il secondo ad Andria. La cosa molto positiva è che rimangono i 20 dipendenti in questo punto vendita e ci saranno altre assunzioni nel prossimo periodo. Diamo un po' di numeri relativamente ai punti vendita nella regione Puglia. Ci sono circa 30 e più 30 i futuri punti vendita che apriremo, 400 punti vendita in 8 regioni in Italia e spero di far conoscere i nostri prodotti DECO e Gastronauta ai cittadini andriesi. Ecco, particolare attenzione ai prodotti di nicchia, ai prodotti freschi ma anche l'ha citato Gastronauta, un marchio importante e di rilievo di qualità per il marchio DECO. Sì, il nostro marchio Gastronauta è un marchio premium dove ci sono dei prodotti di altissima qualità scelti dal nostro gruppo con dei prezzi ragionevoli.